buonasera 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 bentornati allora aspettiamo qualche secondo che vediamo se facebook così manda le notifiche e comunica che siamo in diretta così ci prendiamo qualche secondo vi chiedo ancora scusa per il taglio di capelli ma sto aspettando che arrivi la macchina ordinato la macchinettina per farmi i capelli quindi purtroppo siamo siamo così sembro sembro goku diciamo però ci stiamo ci stiamo organizzando datemi qualche pollicione se vi siete collegati così almeno anch'io mi organizzo e vedo se la cosa funziona funziona allora abbiamo parlato nella diretta precedente degli investimenti immobiliari infatti la la parte interessante di oggi che vi dico vi volevo parlare a proprio il mindset che deve avere l'investitore immobiliare mentalità quindi mentalità perché chi si avvicina a fare questo tipo di lavoro deve sapere benissimo a di là che sia un lavoro o che una persona abbia piacere di iniziare a fare questa cosa come un'alternativa al suo lavoro comunque come investimento per magari mettere a reddito l'immobile piuttosto che acquistarlo per fare un'operazione immobiliare e arrivare a fare avere la libertà economica di cui abbiamo parlato nella diretta precedente la cosa fondamentale quindi le fondamenta che vanno messe bene prima di partire per un'operazione per qualsiasi cosa è la mentalità quindi dobbiamo ragionare su come dobbiamo impostarci mentalmente se vogliamo avvicinarsi a questa cosa ciao stefano ciao stefano grazie del commento vedo che sei sintonizzato grazie mille quindi che mentalità deve avere una persona che vuole avvicinarsi agli investimenti immobiliari allora io mi sono preso gli appunti così ho preparato la scaletta delle cose di cui parliamo oggi sono quattro cose fondamentali che deve avere la prima è la determinazione quindi perché la determinazione perché una persona che inizia a fare questa cosa deve mettere in conto che non la chiuderà la prima quindi non come come nelle aste immobiliari come in tante altre cose quindi non riuscirà a fare subito alla prima operazione poi magari sei fortunato te e magari la prima offerta che fai col tuo agente immobiliare di fiducia perché non non ti fa perdere tempo e te non gli fai perdere tempo a lui magari sei fortunato alla prima proposta la chiudi che io sono più contento e vinciamo tutti però magari non è così anche perché noi andiamo a lavorare in un campo e in una situazione dove le persone comunque sia non capiscono molto il nostro modo di ragionare e quindi magari la parte venditrice cerca sempre di vendere al miglior prezzo noi abbiamo visto che comunque non ci possiamo permettere di sforare dal nostro business plan che vedremo che vedremo più avanti anzi vi preannuncio anche che poi faremo proprio anche una una diretta insieme a stefano casanova che è un mio amico comunque un partner che si occupa proprio di generale contratto proprio per entrare più nello specifico anche di una parte importante per gli investitori immobiliari che è appunto il business plan e comunque il conteggio delle spese delle opere dei lavori tutta una serie di cose molto importanti però non partiamo dal tetto dobbiamo partire dalle fondamenta proprio come in una casa quindi io voglio prima che tu incominci a farse sedimentare praticamente queste informazioni dentro di te ma che comunque incominci a ragionare con una mentalità nuova con una mentalità ciao laura ragazze con una mentalità vincente proprio perché magari non voglio che magari vai fuori prendi subito magari le prime due tre come si dice in toscana musate per terra magari primi noi per le prime porte in faccia magari ti ti demoralizzi e non non hai lo sprint giusto per andare avanti quindi il primo punto abbiamo detto bisogna essere determinati che andare giù martellare andare a vedere case andare a vedere cose fare le proposte anche se vi sembrano magari scandaloso comunque sia la gente immobiliare vi dirà ma come faccio a portare una proposta a un prezzo così basso voi non ve ne fregate niente i calcoli vostri devono tornare quindi dovete starci dentro altrimenti la casa non la prendete è andata a vedere altre altre situazioni altre operazioni quindi la prima cosa bisogna essere determinati la seconda cosa che è legata a questa è la cosa dobbiamo essere costanti quindi vuol dire che non è che ci vado una volta al mese a vederne una poi dopo ci vado cioè se decido di far questa cosa di far questo investimento mi metto lì per esempio adesso che siamo siete tutti più liberi noi devo dire la verità sto lavorando più adesso di prima quindi non ho mai lavorato così tanto in vita mia perché mi sto organizzando la cosa e sono focalizzato sulle cose devo dire la verità che non ho mai lavorato essere produttivo nel senso dell'organizzazione del tempo perché per me personalmente la gestione del tempo le telefonate gli impegni le cose mi perdevo durante la giornata ora che sono bello focalizzato sto andando come un cecchino diciamo a colpire le situazioni magari in questo momento che anche voi siete un po più liberi dalle altre cose magari mettetevi lì guardate le agenzie immobiliari quelle che lavorano come noi sono sono al pezzo cioè quelle che vi mandano il messaggio no adesso non ci siamo siamo chiusi poi vedremo dopo è serve già per toglierle dalla lista delle situazioni che possono essere interessanti per voi quindi quella cosa lì già vi fa capire che quella non è un'agenzia giusta per voi quindi intanto iniziate a salvare andate sui vari portali andate sui siti andate a vedere le agenzie andate a vedere gli immobili magari vi fate una scaletta quindi vi fate un protocollo di dire ok appena riparto voglio andare a vedere questa 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 e questa quello vi serve poi per essere costanti che abbiamo visto che è il secondo punto quindi primo punto è la determinazione secondo punto dobbiamo avere la costanza quindi di non mollare il pezzo e andarci giù pesanti tutti i giorni tutti i giorni tutti i giorni a cercare operazioni e opportunità la terza cosa bisogna essere flessibili cioè flessibili vuol dire che dobbiamo essere organizzarci essere flessibili a determinate situazioni quindi non essere troppo rigidi considerate il fatto che spesso in tante trattative che si chiudono non si chiudono si trovano l'accordo è molto importante la comunicazione quindi magari se volete fare essere diventare bravi anche a trattare voi direttamente le operazioni quindi se andate dal cliente privato e volete magari avere delle strategie anche di comunicazione di negoziazione in questo momento magari potete scegliere magari dei formatori in gamba che ci sono e magari visto che adesso fanno tutti i video corsi anche online ci sono già testimonianze che mi lasciano anche già gratuitamente oppure acquistare dei video corsi importanti che comunque per me sono fondamentali adesso tutte le mattine mi sveglio alle 6 faccio attività fisica mi allerno in tutto e poi mi faccio almeno due tre ore di video corsi perché sono fondamentali perché ti aiutano anche ad avere una mentalità diversa e soprattutto ti potrebbero aiutare a cambiare un po il tuo modo di comunicare ma non è perché magari comunichi male o perché sei poco simpatico modo di comunicare per il business quindi diventare più efficace in una negoziazione più efficace in una trattativa che ti può aiutare anche se il tuo agente immobiliare non è così bravo magari in questa cosa e vuoi anche te supportarlo in queste trattative negoziazioni magari quando fai la proposta gli puoi dire guarda gente immobiliare siccome non ti preoccupare non è che non mi fido di te o comunque non ti dico che non sei capace però avrei piacere quando viene il cliente visto che io sono quello che compra la casa vorrei spiegargli conoscerlo mettermi al tavolino con lui e spiegargli perché ho fatto questa proposta perché ho ragionato che il suo immobile in questo momento per la mia operazione non posso offrirgli più di questo e magari ho visto anch'io tranquillamente a volte delle trattative che sembravano incagliate su una situazione magari su un punto preso perché quello si era offeso perché magari l'altro non aveva capito come mai questo gli aveva fatto l'offerta più bassa ci siamo seduti tutti intorno a un tavolo e alla fine l'abbiamo chiusa quindi questo potrebbe essere un'altra cosa quindi essere flessibile vuol dire proprio anche saper modificare il tuo atteggiamento in base alle situazioni metti in conto che le persone a volte quando gli vai a fare delle offerte economiche gli vai a mettere la mano al portafoglio ci sta che magari qualcuno non sia così come ti posso dire educato anche nella risposta o comunque le persone ti possono anche dire non ti dico vaffanculo quello no assolutamente non si può non dovrebbero almeno perché comunque non si può dire però magari ci potrebbero rimanere male o potrebbero offenderci quindi il fatto di essere flessibili anche nella situazione soprattutto la comunicazione ti aiuta tantissimo nel lavoro ma ti aiuterà anche nella vita privata quindi secondo me è il tempo e sono i soldi meglio investiti quelli nella formazione per imparare a comunicare meglio e potrebbe servirti davvero anche in questo anche per comunicare col tuo agente immobiliare magari che non è un agente immobiliare magari di ultima generazione non è un agente immobiliare che si tiene aggiornato e tutto e magari lo può aiutare te se lui hai trovato l'immobile che ti interessa un'operazione interessante ce l'ha lui vediamo di non perderla e cerchiamo di portarla avanti quindi quarto e ultimo punto devi essere caparbio cioè la caparbietà vuol dire se trovi l'operazione che ti piace se reputi quella cosa lì non mollare magari te fai la proposta ok gli dai tempo che ne so cinque giorni per accettarla quello ti dice magari in quella fase lì ti dice di no ti incomincia andare a vedere la tua persona perché dici guarda io faccio un investitore immobiliare non posso perdere del tempo non posso farti una proposta valida un mese perché te devi pensare devo parlare con la moglie devo parlare col marito devo parlare con mia suocera devo vedere fare obbligare le proposte devono essere molto strette molto rapide una vicina all'altra se magari la prima battuta non te l'accetta vai avanti e vai a vedere se ci sono altre operazioni più interessanti se magari vedi che dopo un mese due mesi quelli immobili lì ancora lì in pubblicità oppure il progetto immobiliare ti dice guarda però sai forse è cambiata un po la situazione è tutto devi essere caparbio nel non perdere lo stimolo e tutte magari di fargli una seconda proposta una seconda volta quindi anche questo ti servirà essere comunque organizzato avere una qualcosa dove puoi metterti le notifiche anche può utilizzare un qualsiasi programma che ci sono anche di promemoria di cose che magari ti segni tutti i dati quindi a ripetizione una volta che hai visto quegli immobili magari torni a bomba a riproporti a riproporti a riproporti finché magari non arriva il momento che ti accettano la proposta quindi queste quattro basi fondamentali incomincia a ragionarci anzi condividete questa diretta se avete delle persone che possono essere interessate a avvicinarsi a questo lavoro e a questa cosa perché sono veramente le notizie base che io personalmente sono andato a studiarle e ho pagato tanti soldini ho investito tanti soldi per avere queste informazioni e ve le sto dando adesso gratuitamente perché mi fa piacere che in questo momento che sicuramente siamo tutti un po più liberi e siamo tutti un pochino anche più come ti posso dire disponibili a ragionare un po più a mente aperta perché non siamo presi da tutti da tutte le cose queste cose magari ti devono anche aiutare a non spaventarti quindi a non avere troppa paura ok la paura deve essere una cosa giusta ma non deve essere una cosa che ti blocca ok anzi parlando così ti aggiungo la quinta cosa che non l'avevo ancora aggiunta ma mi è venuta in mente adesso che l'investitore immobiliare deve essere un investitore immobiliare che comunque va bene che abbia un minimo di paura quindi non è una cosa che non è giusta per la paura la paura devi saper gestire la paura è quella che ti attiva certe cose nel momento in cui magari devi fare una certa cosa mettilo in conto che avrai paura quando andrà a fare la prima proposta che staccherà il primo assegno non sapendo nemmeno poi magari quello no lo devi fare cioè la banca devi sapere se la banca ti dà il mutuo e tutto però sicuramente magari un pochino di di cosa nello stomaco ti verrà perché magari non sei abituato è la prima volta che ti impegni magari per comprare un immobile da centomila euro e magari te centomila euro non le mai visti in una vita o magari sono i risparmi che hai di tutta la tua di tutta la tua magari vita lavorativa fino a quel momento lì quindi anche la paura ve la aggiungo come quinto punto deve essere una paura che va saputa gestire quindi dobbiamo essere bravi nella nostra mentalità trasformare la paura in un qualcosa di positivo perché nel momento in cui ti accorgi che la situazione ti crea troppe anzi o troppe cose ti devi fermare a ascoltarla quella paura e capire se magari veramente quell'operazione lì è meglio non farla perché forse non era il caso di farla ok quindi vi ringrazio tantissimo della vostra attenzione condividete questa diretta ci vediamo domani perché andiamo allo step successivo che deve fare un investitore immobiliare per iniziare a avvicinarsi a questo settore quindi io vi saluto per oggi vi ringrazio ancora condividete questa diretta e ci vediamo domani nella prossima diretta un saluto a tutti e buona giornata